Ciao a tutti ragazzi, questo è un video brevissimo per chi volevo dirvi che da più o meno qualche giorno mi trovate anche a me su un nuovo social network che si chiama Tsu, si scrive T-S-U, sembra una parolaccia o qualche cosa brutta, però appunto è un nuovo social network. Questo social network è simile a Facebook e a Twitter, per come appunto è impostato. Io Facebook e Twitter non l'ho mai usato perché non riesco, non ho mai, non riesco appunto, non sono mai riuscita a usarlo. Mentre appunto Facebook, ho una pagina Facebook che però è una pagina Facebook morta, nonostante comunque abbia più o meno 700 mi piace, soltanto che lì all'inizio facevo domande, vi dicevo dell'anteprime dei video e che facevo dei sondaggi, soltanto che appunto ultimamente proprio non ho riscontro da parte, insomma, delle ragazze che appunto hanno messo mi piace alla pagina, né per quanto riguarda i mi piace, né appunto con i commenti, quindi per questo mi dispiace molto, un po' diciamo che è colpa di Facebook, perché nel senso che nell'ultimo periodo sta, lui manda le notifiche dei post che appunto io pubblico, soltanto a chi li parla lui, a meno della metà delle persone che appunto hanno messo mi piace e quindi non raggiungono tante le 700 e passa persone appunto. Questo invece è il nuovo social network, fa seguire, fa arrivare tutti i post a tutte quante le persone che mi seguono appunto su quel social network lì, perché arrivano delle notifiche e in più diciamo la cosa che differenzia da tutti gli altri social network è che questo paga, le persone che appunto sono iscritte e che hanno diciamo un minimo di popolarità, un minimo di seguito, di appunto riscontro con il mi piace, con i commenti eccetera, no? Questo non accetto nel mio caso perché io comunque non ho dei grandi numeri a confronto dei numeri di internet, appunto per me siete tantissimi e spero appunto mi seguiate anche lì, però appunto per me sono comunque tanti, qualsiasi numero mi segua, soltanto che appunto ci deve avere un numero consistente di persone che appunto ti segue, che interagisci con te per comunque guadagnarci un po', io appunto lo sto utilizzando al posto di Facebook, diciamo prossimamente abbandonò penso la pagina Facebook perché lì davvero non ha senso pubblicare le cose lì su Facebook, mentre appunto mi piacerebbe che vi spostate insomma un po' tutti quanti lì su questo nuovo social network che si chiama appunto Tsu, vi lascio qui sotto il mio link, per niente consiste che per iscrivervi vi chiede di iscrivervi tramite un invito di qualcuno che è già iscritto, se voi appunto vi iscrivete a questo sito tramite il mio link che trovate qui sotto nell'info box, voi insomma mi pagano anche in base appunto alle persone che entrano tramite il mio link e io guadagnerò in futuro grazie anche alle vostre poste eccetera, insomma cose così e di conseguenza anche se appunto voi mettete il link a qualcuno, a qualsiasi persona proprio appunto si iscrive tramite il vostro link, insomma guadagnate, appunto questo lì era un video brevissimo per dirvi che ho aperto anche un profilo Tsu, se volete seguirmi potete seguirmi appunto anche lì, poi vi dico anche appunto io ho anche questa pagina Facebook, però sto cercando di abbandonare, il profilo Google Plus, quello è molto importante perché ancora ho visto che qualcuno non mi segue lì, è molto importante perché far sì che io posso rispondervi sotto i commenti, molto spesso mi lasciate dei commenti ma appunto non mi seguite su Google Plus e quindi non esce proprio la risposta, non riesce proprio il tastino scritto rispondi e quindi non posso rispondervi, e ho anche un blog che però ultimamente ho abbandonato, però cercherò anche quello di piano piano di riprenderlo, e allora questo è tutto, spero che mi seguiate insomma in tante altre parti, che vi faccia piacere appunto seguirmi in tante altre parti, vi mando un grosso bacio e al prossimo video, ciao!